La custodia pesa circa 160 grammi e misura 35 x 24 cm. Quindi pienamente compatibile con iPad Pro da 12,9, MacBook Pro Retina da 13,3, MacBook Air da 13,3 e gran parte degli Ultrabook e Laptop da 11 pollici. Viene spedita in una busta in plastica, richiutibile grazie a una comoda zip, soluzione utile per conservare la custodia quando non è utilizzata. Troviamo ancora una piccola borsa in feltro con elastico, utile per riporre ulteriori accessori come l'alimentatore o il mouse. All'interno di quest'ultima è presente anche un panno in microfibra per pulire il display del notebook. La custodia è di colore grigio ed è realizzata tutta in feltro ad eccezione di una striscia in ecopelle applicata a rinforzo del sistema di apertura strappo con velcro. Sulla parte posteriore sono presenti due tasche portoggetti rivestite in flanella. L'interno, anch'esso rivestito in morbida flanella, è composto dallo scomparto principale dove andrà riposto il laptop e un secondo scomparto da utilizzare a seconda della necessità per riviste, libri o altro. Considerata la fattura della custodia, trovo sia più adatta per essere impiegata come protezione per il notebook all'interno di una borsa da lavoro o uno zaino. Tuttavia, può essere utilizzata anche sotto braccio per brevi tragitti. Certamente non passerà inosservata per il suo design essenziale ed elegante. Inoltre, essendo una custodia interamente costruita in feltro e flanella, oltre a proteggere il notebook da eventuali urti accidentali, gli eviterà di subire graffi da sfregamento durante la fase di uscita e di ingresso. L'unica mia perplessità consiste nel fatto che il feltro si possa rovinare col tempo, ma tutto sommato, considerato anche il prezzo decisamente economico, ne consiglio l'acquisto.